Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi voglio parlare di un contest in cui vi verrà regalata una playstation 3 modificata, vi verrà regalato un account moddato e vi verrà regalata una shark card per partecipare a questo contest ragazzi vi lascerò il link in descrizione dove ci sarà anche un altro mio contest questo contest è di Dark Glitch ragazzi, quindi per partecipare a entrambi i contest iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al suo canale ragazzi e andate a commentare partecipo sotto il link in descrizione di questo video o meglio il video di Dark Glitch, io qui vi lascio il suo video giusto per ricordare questo contest e per farvi vedere che cosa offre personalmente, detto questo un saluto al prossimo video Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale ragazzi Allora, come avete visto e letto, spero dal titolo ragazzi, questo è un contest dove si vinceranno tra parentesi soldi veri, soldi veri perché ragazzi, perché in pratica farò, cioè faccio questo contest Per quando arriverò a 5.000 membri, ecco perché lo faccio da adesso perché sto già a 3.100, non me ne va di fare ROAD to 4.000 oppure cose del genere io lo faccio direttamente per 5.000, perché per 5.000 ragazzi, adesso ve lo spiego il perché subito subito, perché in palio ci sarà una shark card da 15 euro, sì avete sentito bene, una shark card da 15 euro ma volete sentire meglio? Questo sarà solamente il terzo posto, la shark card da 15 euro Il secondo posto si dovrà prendere quello che lascerà il primo vincitore E il primo vincitore, ragazzi, sapete cosa potrà fare? Potrà scegliere tra una Playstation 3 modificata con 5 giochi, il mod menu su GTA e tutto quanto che si può scaricare i giochi da internet gratis e un account per PS4 da 300 milioni e adesso avete capito il perché dei 5.000 membri perché nessuno, penso e dico, cioè io non ho visto su YouTube qualcuno che ha 5.000 membri abbia regalato, se fammo il conto di tutto quanto, è un totale di 215-220 euro su per giù, non penso che qualcuno a 5.000 membri vi abbia mai regalato 220 euro però ci sono delle regole, ragazzi, penso due o tre, qualcosa del genere non è regole difficili, però se voi le seguite avrete la possibilità di vincere una di queste tre cose e come ho detto, anche il terzo vincitore dovrà essere contento perché una shark card da 15 euro non la riceve ogni giorno, diciamo comunque, allora, la prima regola, ragazzi, è che dovete commentare tutti i video a partire da questo, fino a quando arriveremo a 5.000 membri dovete commentarli con hashtag dark glitch it la seconda regola, ragazzi, è quella di condividere il più possibile perché prima arriveremo a 5.000 membri e prima vi potrò regalare queste cose e la terza regola, ragazzi, è non quella meno importante diciamo che è quella più importante di tutte quante è entrare, statemi bene a sentire entrare nel gruppo di Maxi Milk YouTube il link ve lo lascerò qua sotto in descrizione e quindi, se non siete nel gruppo di Maxi Milk YouTube scordatevelo di partecipare al contest perché io ci tengo veramente tanto a quel canale e non importa, non avete Telegram ve lo scaricate e entrate a far parte di quel canale se volete partecipare e volete vincere se non volete non commentate neanche e non condividete neanche perché non ha senso raga, a me dei vostri like e dislike non mi interessa niente quindi li potete mettere come non li potete mettere cioè non mi fa né caldo né freddo perché è venuto qualcuno a dirmi che è impossibile che io non cerco i like sì, mi fa piacere avere tanti like ma non vado a chiedere la carità in giro se qualcuno me lo vuole mettere, ben venga se non me lo vuole mettere, buon per lui se mi vuole mettere il dislike vuol dire che non sono bravo io abbastanza per soddisfare il suo piacere, diciamo e quindi sono contento io accetto le sconvitte e accetto le vittorie e niente ragazzi altro che vi devo dire le regole penso che le avete capito dovete commentare sotto dark glitch it dovete entrare nel gruppo telegram di maximilk youtube e dovete condividere il più possibile perché più velocemente arriviamo e meglio è perché io ragazzi ad agosto vado in ferie e non mi porto la playstation dietro non sto a spedire pacchi e cazzate del genere quindi se arriviamo prima di agosto meglio se no ci si rivede a settembre ragazzi e purtroppo è così comunque ve l'ho detto entrate nel canale nel gruppo telegram di maximilk perchè questa è la regola più importante poi come vi ho detto terzo posto sharkar da 15 euro secondo posto si prende quello che rimane dal primo posto e il primo posto potrà scegliere tra una playstation 3 modificata e un account per ps4 da oltre 300 milioni raga per questo video è tutto che senso ha dire se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su giustamente vi è piaciuto perchè nessuno vi regala tutte queste cose così dal suo profondo del cuore e state attenti ai truffatori su youtube avete visto il video che ho messo non è diciamo truffatore è una cosa così ragazzate diciamo però non potete seguire qualcuno che fa certe cazzate ragazzi oh dai sveiatevi pure voi se no questi mi si monta la testa questi youtuber che gli appare di essere cristo intera e vanno a fare autografi e cazzate in giro e lasciate perdesti ragazzi su comunque ragazzi io ve l'ho detto se volete partecipare il video risentitevelo 50.000 volte e noi ci si vede ad un prossimo video ciao a tutti